Salve, buon pomeriggio a tutti. Sì, è stata una giornata bellissima, molto partecipata. Ci tengo a ringraziare tutte le varie associazioni che hanno partecipato per questa buona riuscita. Questa è la quarta edizione, che ricordiamo il nostro amico e collega Raffaele. Un carissimo saluto, mandiamo anche al Presidente dell'Associazione Amici di Raffaele, Gaetano Pace, che per motivi personali non ha potuto presenziare. Volevo solo dirvi che anche questa manifestazione, come ho detto prima, è stata molto partecipata con un numero di circa 60 persone. Quest'anno molta partecipazione c'è stata sul femminile, quale va il nostro ringraziamento alla cooperativa anche Rinascita per il maggior numero femminile che ha portato. Insieme alla Rinascita, la piccola opera di Brunella, Fondazione Marino, tutte le associazioni, mi scuso se non ricordo a mente qualcuna, ringraziamo come ogni anno anche l'arciprete Don Domenico, che è venuto a dare la benedizione. Dalle ore 16 alle ore 18 ci sarà Gioche e Animazione per Bambini a cura dell'Associazione, insieme per... che allieterà la serata dei più piccoli con anche cupon Poppocorn e tutto il resto. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi e amici qua alle mie spalle, che ora ve li presento a una a uno. Prego Roberta Rosi Francesco Raffaele Anna Lisa Michelle Antonella Un ringraziamento anche particolare al componente dell'Associazione Culturale Amici di Raffaele, qui l'amico Filippo Oliveto, a quale va il nostro più sentito ringraziamento. Un ringraziamento particolare anche alla famiglia di Caserta, da parte di tutti noi, con un grosso abbraccio. Colgo l'occasione per fare i migliori auguri di buone feste, che dia pace e serenità in tutte le famiglie. Grazie. Buonasera dell'Associazione Raffaele Caserta, insieme. Ringraziamo tutti i presenti, è stata una bella giornata, una bella manifestazione per i bisognosi e non. Ringraziamo il Comune e tutte le associazioni che hanno partecipato. Un saluto particolare al nostro Presidente Gaetano Paggia, insieme alla sua famiglia e a tutti i suoi componenti familiari. Una buona serata. Paggia, insieme alla sua famiglia e a tutti i suoi componenti familiari. Ringraziamo 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 tutti i suoi componenti familiari. Non siamo mia, si, n'è la sce, n'è la sce, n'è la sce. Grazie a tutti.